A contagi zero nuovamente il capoluogo dopo un breve stop di due giorni, ma nelle ultime 24 ore non è stato riscontrato nessun positivo. Sono in tutto 67 i positivi al covid-19 in città tra degenza domiciliare e ricoveri. 18 nuovi positivi in tutta la provincia tra Gela e Niscemi, 10 sono i niscemesi, 8 i gelesi, 39 in tutto i guariti. Lieve calo dei ricoverati in malattie infettive, da 44 si passa a 43 ed un paziente in più in terapia intensiva. Al momento sono tre i pazienti, uno proveniente da fuori provincia e due che fanno parte della provincia di Caltanissetta.